Buongiorno 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 Andiamo allora, lasciamo l'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di Chieti, Lanciano, Basto, anche in questo caso per dare uno sguardo ai titoli che riguardano la prima pagina. Poi entreremo all'interno dei nostri quotidiani con anche le notizie di carattere provinciale, con le varie edizioni nella seconda parte. Ecco qui la prima pagina dell'edizione di Chieti del Centro, incursione in auto a 14 anni, Basto, viaggiava con un dodicenne, nascondevano arnesi da scasso. E poi la fotonotizia che riguarda Ortona, Ortona in festa, i fedeli ricevuti dal Vescovo, i pellegrini di San Tommaso al traguardo dopo 330 chilometri. E poi le cronache, torniamo alla tragedia di Pineto con la ragazzina morta con lo scooter del papà. Poi l'Università d'Annunzio nel Mirino dei Cinque Stelle perché i senatori Cinque Stelle si rivolgono al Ministro per chiedere di mandare via il Direttore Generale. E poi San Salvo, movimentata, rissa tra cinque ambulanti, tre sono italiani. E poi notizie che riguardano il calcio, in questo caso Lanciano e Chieti, dunque serie B e serie D. Il Lanciano irrompe su Zanon, giocatore del Frosinone ex difensore del Pescara, oggi o domani arriva Cragno in serie D. Il patron del Chieti, Pomponi, carica, il Chieti dice punta alla promozione. Lasciamo l'edizione di Chieti del Quotidiano Il Centro per andare a vedere un'altra edizione, in questo caso l'edizione di Teramo. A proposito di Teramo, sono ore importanti queste per il futuro della società bianco-rossa del Teramo Calcio perché nelle prossime ore è attesa la sentenza di primo grado dopo la richiesta shock della Procura federale, ricorderete, retrocessione in serie D e 20 punti di penalizzazione per il sodalizio aprutino. Vediamo comunque la prima pagina del Centro edizione di Teramo, ho visto morire la mia Federica, ovviamente in questo caso il titolo a tutta pagina riguarda proprio la tragedia di Pineto il padre rivive lo scontro in cui ha perso la vita la quindicenne. Nelle cronache, farmaci costosi, cure, salvavita, 6 milioni di buco nel bilancio della ASL, siamo a Teramo, poi carenza idrica, Martinsicuro senza acqua, turisti in fuga e a Roseto e Tortoreto in migliaia sulla spiaggia per i fuochi di artificio. E poi i titoli che riguardano lo sport, come dicevamo Teramo incrocia le dita aspettando la sentenza in cubo serie D per i bianco-rossi poi basket serie A2, Roseto sfoglia la margherita, All o Thomas per Coac Trullo. Lasciamo l'edizione di Teramo del Centro, tra qualche istante andremo a vedere l'edizione dell'Aquila Avezzano sul Mona, sempre del quotidiano d'Abruzzo poi passeremo al messaggero e andremo a vedere anche, come facciamo sempre nella prima parte della nostra rassegna stampa, i titoli di carattere nazionale. Prima pagina del Centro, edizione dell'Aquila, l'Unione Europea richiede le tasse alle aziende, nel mirino le imprese che non hanno avuto danni dal sisma e poi notte di paura ad Avezzano, attentato incendiario in una casa, ipotesi scambio di persona, fortunatamente non ci sono state vittime e poi l'ultimo saluto all'operaio ucciso sulla A25, funerali ad Avezzano, ricorderete il terribile incidente stradale di qualche giorno fa con diverse vittime, tra cui alcuni operai, proprio dell'autostrada dei parchi, ancora ricoverato in gravi condizioni il condicente della macchina che è piombata addosso a questo furgoncino dell'autostrada dei parchi dove si trovavano questi operai. Poi Rocca di Mezzo, in cinque avvelenati dei funghi presi nel bosco e poi il Ferragosto VIP, la ministra passa la vacanza a Rivi Sondoli dunque vacanze abruzzesi per il ministro della Salute Lorenzin che vedete nella foto. E poi a Monte Reale, in fiamme, mille rotoballe utilizzate a benzina, solidarietà all'allevatore. Lasciamo dunque il centro, passiamo al messaggero per andare a vedere la prima pagina del quotidiano romano poi vedremo nella seconda parte l'inserto Abruzzo e ora inizieremo anche con la rassegna stampa per quanto riguarda le pagine nazionali. Prima pagina del messaggero, capitali, corsa al rimpatrio, previsti 3 miliardi di gettito, il governo ha reso più conveniente la procedura, costi dimezzati, oggi all'Expo incontro fra Renzi e la Merkel, il Premier chiederà più investimenti nel piano dell'Unione Europea. Poi l'altro titolo principale che riguarda i migranti passa la linea dura, il Lombardia, quanti in Sicilia, stretta del Viminale, Maroni si arrende, raddoppiati i profughi. E poi vedete questa notizia, i dubbi sul neonato, sottratto la mamma, aggredì il fidanzato con l'acido, il giudice le toglie. Subito il figlio Martina Levato, neomamma, ci sono le polemiche proprio per la decisione del giudice, come sempre in questi casi pro, ci sono molti contrari e alcuni a favore. E poi c'è questo approfondimento dell'economista Giulio Sapelli, l'Italia chieda più flessibilità, ora Berlino deve cedere ancora titoli che riguardano la prima pagina, in questo caso il divorzio breve e boom tra gli over 65. E poi ritroviamo la notizia che avevamo visto anche dalla centro, coniugi uccisi a Brescia, fermati i titolari di locali rivali. Passiamo alle pagine interne del messaggero, pagina 2, evasione, scatta la corsa al rimpatrio dei capitali in Italia, 3 miliardi di gettito, il governo ha reso la procedura più conveniente con costi dimezzati, in vista a un'accelerazione delle richieste a settembre. E poi in basso anche i nomi degli amanti, se si vuole far pace con il fisco. Pagina 3, Renzi va in pressing sulla Merkel, più investimenti nel piano dell'Unione Europea. Oggi l'incontro all'Expo, l'Expo oggi, che sarà visitato proprio dal premier tedesco Angela Merkel. Il premier italiano Matteo Renzi vuole una scossa dopo i dati sulla crescita lenta. E alla cancelliera la richiesta di rafforzare il piano Juncker, puntando su infrastrutture. Lavoro, decolla il voucher, 70 milioni nel 2014. E poi in basso, a fondo pagina, in ballo 12 miliardi per la manovra nella partita da giocare a Bruxelles. Proseguiamo, pagina 5, sempre del messaggero. Grecia verso il voto dopo l'ok ai fondi. Il premier Tsipras attende lo sblocco di 13 miliardi di aiuti, poi chiederà la fiducia per mettere all'angolo la minoranza. La sinistra di Siriza al bivio, far cadere il governo o aspettare. Merkel dice, speriamo, Atene migliori. Il Bundestag decide. Mercoledì, e poi una notizia che riguarda la Gran Bretagna, perché si parla di prossime elezioni. Brown d'accordo con Blair, Corbyn danneggia il labur. Dunque, questo esponente laburista, molto apprezzato, almeno da una parte degli elettori laburisti, non è ben visto dai vertici del partito. Pagina 6, migranti, così il Viminale li trasferisce in Lombardia. Andiamo a vedere nel dettaglio prova di forza del Viminale nei confronti dei governatori leghisti. Numeri raddoppiati. Merkel, l'Unione Europea, dice di valutazioni comuni sulla sicurezza degli stati di provenienza. E poi ieri nuova strage, 49 asfissiati nella stiva. Salvini, leader della Lega, scatenato, dice i vescovi hanno rotto, ora bloccheremo l'Italia per tre giorni. Ma torniamo in alto, perché c'è questo grafico che evidenzia quanti sono i migranti in Italia ripartiti regione per regione. Vedete il numero totale degli immigrati presenti sul territorio. Vedete, in Sicilia ce ne sono 13.999, un numero di gran lunga superiore a tutti quelli delle altre regioni. Nel Lazio 8.490, in Lombardia 5.836, in Abruzzo, andiamo ad ingrandire, ce ne sono 960, in Molise addirittura di più 1.147. Questo dunque lo schema del messaggero che va a riassumere un po' la presenza degli immigrati nelle regioni italiane. Siamo a pagina 7 per tornare ancora a parlare di migranti e comunque di argomenti dello stesso tenore. Quanti ambulanti in spiaggia, ma multarli non è possibile. Boom di venditori extra comunitari sugli arenili marocchini o del Bangladesh. Hanno permessi di soggiorno regolari, ma residenze fittizie. Sanzioni a vuoto. E poi in Costa Smeralda e in Romagna per vedere come vanno le cose. In Costa Smeralda il business del Cocco Bello controllato dai napoletani. Nei lidi della Riviera Romagnola e tolleranza zero. Multe per chi vende e per chi compra. E poi c'è l'intervista Monica Imovilli che dice è difficile distinguere le merci taroccate. Pagina 8 del messaggero. Il piano dei moderati. Gruppo unico alle Camere e federazione centrista. Nuove manovre politiche, soprattutto nel centro-destra. Le mosse di Alfano con gli altri non-dem della maggioranza. Una nuova margherita per garantire a Renzi la stabilità. E poi si parla di riforme. La sinistra unità del PD dice a rischio. Siamo ancora avanti. Siamo a pagina 9 del messaggero. Colle stretta sugli alloggi. Via chi non ne ha diritto. Giro di vita del Presidente della Repubblica Mattarella sui 58 appartamenti da 25 a 850 metri quadri riservati ai funzionari della Presidenza della Repubblica. Saranno assegnati in base a criteri oggettivi e comunque con un aumento del canone del 60%. Dunque stretta del Presidente Mattarella. Una volta completato il piano verrà liberato l'intero Palazzo San Felice in via della Dataria. Andiamo ancora avanti. Si parla sempre di spending review al Quirinale dagli stipendi alle auto blu. Dunque il Capo dello Stato ha chiesto una riorganizzazione dell'intera amministrazione. Ora tocca alle tenute della Presidenza della Repubblica. Dunque stretta del Presidente Mattarella. E siamo a pagina 11 per parlare del divorzio breve perché boom, la carica degli over 65, sempre di più gli anziani che si dicono addio rappresentano il 20% del totale. Con la nuova legge è un aumento le coppie che decidono di chiudere il matrimonio. E intanto, vuoi sposarmi? Blocca l'autostrada. È finita con l'aspirante sposo e i suoi sei amici in manette. Una delle proposte di matrimonio più originali che si siano mai viste. È accaduto ad Istanbul in Turchia. Protagonista è un uomo che con l'aiuto dei suoi compagni ognuno alla guida di un'auto ha ideato di bloccare l'autostrada. E alla fine è scattato l'arresto. Andiamo ancora avanti perché c'è l'intervista a Gianetto Regassani che dice che questo è niente, il vero picco. Sarà dopo l'estate. Presidente dei matrimonialisti parla proprio di questo divorzio boom soprattutto fra gli over 65. Poi ancora approfondimenti. Luna di miele disastrosa e l'addio dopo 28 giorni. Finito il viaggio da sogno si sono presentati dai rispettivi legali. Abbiamo commesso un grosso errore. Dunque due coniugi che si sono separati al termine della luna di miele dopo 28 giorni di matrimonio. E poi un'altra storia originale anche questa lascia la moglie a 90 anni per fuggire con l'amante. La donna pensava ad uno scherzo poi ha firmato l'ok al divorzio. L'uomo il più anziano tra i richiedenti. Pagina 12. Cronaca internazionale ma che riguarda il nostro paese. Una notizia luttuosa che arriva dall'Indonesia perché è luttuosa nel senso che ci sono tre italiani scomparsi dopo l'immersione. Le ricerche proseguono ma difficilmente si riusciranno a trovare questi italiani in vita a meno che non siano riusciti in qualche modo a riemergere ma in questo caso a far perdere le proprie tracce. Si tratta di due uomini e una donna salvi altri due connazionali sparito anche un belga. l'escursione dei sub a Sangalaki dunque si dispera a questo punto di trovarli in vita ma la speranza è che in un qualche modo siano riusciti a riemergere e a far perdere le loro tracce. Dunque continuano comunque le ricerche e la Farnesina è in continuo collegamento proprio con le autorità indonesiane per cercare questi tre italiani. e poi si schianta sulle montagne di Papua l'aereo di una delle linee più pericolose una tragedia in volo il velivolo della Trigana precipitato nella foresta 54 morti tutti indonesiani. La TR era in servizio da 27 anni la compagnia fondata nel 1991 ha già avuto 14 incidenti gravi. E siamo a pagina 13 si parla proprio della vicenda della donna che aveva con il compagno aggredito con l'acido l'ex fidanzato e tolto il figlio appena nato alla coppia killer dell'acido il neonato e la madre Martina Levato subito separati dopo un breve abbraccio i giudici decideranno se sarà adottato l'ira dei nonni è stata una barbarie. Dunque ci sono polemiche e sotto due interviste proprio per conoscere anche pareri diversi Stefano Vicari dice esistono altri modi per impedire alla donna di fare dei danni e poi Claudio De Angelis procedura drastica ma l'adottabilità è più garantista per la madre. Siamo a pagina 14 la cronaca Brescia coniugi uccisi fermati due stranieri commercianti rivali la pizzeria della coppia danneggiava gli affari degli asiatici recuperata anche l'arma del delitto un fucile a canne mozze dunque è stato risolto il giallo di Brescia questi due coniugi uccisi inchiodati dalle riprese delle telecamere nel video le fasi della drammatica esecuzione poi fulmine sul trullo parliamo di maltempo donna in coma ferragosto tragico quattro morti affogati scusate e a proposito di maltempo tra pochissimo tra un minutino dopo aver visto le pagine nazionali del centro parleremo proprio di meteo con il nostro Giovanni De Palma allora brevemente le pagine di cronaca nazionale del centro a Catania le 49 salme dei profughi asfissiati sono 312 sopravvissuti alla traversata di ferragosto li ha salvati la marina nella stiva decine di cadaveri ammucchiati tra donne e bambini lacrime pagina 3 Salvini i vescovi non rompano puntini puntini ai sindaci affermazioni forti del leader leghista da Ponte di Legno parte l'offensiva della Lega contro Renzi a novembre tre giorni di serrata per cacciare il governo pagina 4 expo boom di presenze centomila visitatori in un solo giorno ma code interminabili agli ingressi il commissario Sala pronto a intervenire e poi lavorare ci ha restituito la nostra vita i detenuti del carcere di Bollate occupati come volontari tra i padiglioni la sera tornano in cella ancora avanti pagina 5 tre subacquei italiani dispersi da sabato a largo del Borneo timori anche per un belga due connazionali tratti in salvo tragedia provocata dalle forti correnti Farnesina in campo abbiamo visto anche questo titolo dalle pagine del messaggero l'ultima pagina che riguarda la cronaca nazionale il giallo di Ragusa omicidio di Loris video inediti consegnati al PM i filmati potrebbero chiarire i sei minuti di buio la difesa della mamma Veronica Panarello decisa a dare battaglia Veronica sola in cella piange prega e non mangia siamo le pagine d'Abruzzo del centro ma sono le 7 e 21 minuti dobbiamo come sempre aprire la consueta pagina delle meteo mai come oggi sicuramente importante perché come ci aveva preannunciato il nostro Giovanni De Palma nei giorni scorsi dopo tanto caldo è arrivata la pioggia sono arrivati i temporali ma soprattutto c'è stato un forte abbassamento delle temperature io do il buongiorno al nostro meteorologo Giovanni De Palma Giovanni buongiorno 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 Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora dicevamo temperatura è quasi impicchiata questa mattina bisogna dirlo fa piuttosto freddo dalle nostre parti ma anche ieri rispetto ai 33 34 gradi di due giorni fa di tre giorni fa ieri a Pescara nelle ore più calde a malapena si riuscivono a superare i 20 gradi che cosa è accaduto Giovanni? sì come avevamo annunciato nei giorni scorsi è arrivata una perturbazione atlantica dopo davvero dopo tantissimo tempo dopo oltre 50 giorni una perturbazione atlantica ha raggiunto la nostra penisola ha favorito non solo un deciso peggioramento perché ci sono stati forti temporali sulla nostra regione ma ha determinato un sensibile abbassamento delle temperature su gran parte del territorio regionale questa situazione comunque eravamo già altamente prevista tant'è che i valori che si registrano in questo momento nell'Aquilano e sulla Martica sono anche al di sotto dei 10 gradi quindi una situazione questa che adesso siamo sotto media dopo oltre 50 giorni le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali ma niente paura perché l'avevamo comunque annunciato già a questa situazione nei giorni scorsi abbiamo annunciato le temperature pian piano torneranno gradualmente a salire ma chiaro non tornerà il gran caldo che ci ha interessato fino a qualche giorno fa perché comunque la nostra penisola resta diciamo sotto la scia di correnti atlantiche quindi se nelle prossime ore avremo un tempo decisamente migliore rispetto alla giornata di ieri con schiarite ma anche la possibilità di annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose non si escludono dei rovesci nel pomeriggio proprio sulle zone montuose localmente in estensione sul versante orientale questa situazione non cambierà di molto nella giornata di mercoledì almeno nella prima parte però poi da segnalare un nuovo peggioramento del tempo a partire dalla serata di martedì ma ancora più nella giornata di mercoledì perché arriverà un'altra perturbazione atlantica e questa ci forterà ancora una volta delle nubi delle fiogge ma anche dei temporali e un nuovo lievabbassamento delle temperature quindi questa perturbazione continuerà poi ad interessarsi anche nella giornata di giovedì poi pian piano pian piano insomma la situazione tornerà a partire da venerdì avremo un tempo migliore ma comunque la nostra penisola non sarà interessata dall'alta pressione ciò favorirà localmente episodi di instabilità pomeriggiana sulle zone montuose e sul versante orientale quindi la notizia attuale è Paola che dopo il gran caldo adesso almeno fino alla metà della terza recale del mese non dovrebbero tornare le ondate di calore quindi la nostra penisola continuerà comunque a essere interessata dal passaggio di queste infiltrazioni di aria umida di origine atlantica è piuttosto fresca e quindi ciò manterrà localmente attive condizioni di instabilità la notizia principale è che non tornerà il gran caldo e l'AFA quindi da monitorare poi la perturbazione di mercoledì e anche un proseguo non proprio all'insegna del bel tempo ma di queste situazioni poi ne riparleremo diffusamente nei prossimi giorni Paolo dunque una buona notizia almeno per quanti hanno sofferto il caldo nelle ultime settimane e hai detto giustamente ne riparleremo nei prossimi giorni però io voglio chiederti visto che tanti abruzzesi vanno in ferie proprio a cavallo del ferragosto soprattutto dopo il ferragosto per le previsioni che abbiamo che hai in questi giorni in queste ore che fine che seconda parte di agosto ci si attende e se possiamo anche un po' allungarci ai primi giorni di settembre ci sarà un'estate mediterranea con temperature nella norma e bel tempo oppure dovremo fare i conti con i capricci di queste perturbazioni almeno per quello che possiamo dire oggi Giovanni guarda Paolo osservando gli ultimi aggiornamenti tu sai benissimo comunque che non possiamo spingerci oltre i 5-7 giorni come tendenza generale però diciamo che innanzitutto come ho detto poco anzi il gran caldo non tornerà le temperature attualmente a di sotto delle medie stagionali tenderanno lievemente ad aumentare ti porteranno tutto sommato in linea con le medie del periodo però la nostra penisola continuerà ad essere sotto la scia di correnti atlantiche stavolta l'Atlantico raggiunge la nostra penisola non c'è l'anticiclone africano che devia il percorso delle perturbazioni verso l'Europa settenzionale verso l'Europa orientale stavolta l'Italia farà i conti con il passaggio di queste perturbazioni e nella giornata di mercoledì assisteremo al primo a un primo peggioramento un nuovo peggioramento dopo ferragosto instabilità che poi continuerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì perché il movimento verso Levante di questa perturbazione sarà piuttosto lento ma anche poi nel fine settimana comunque ci sarà ancora l'influenza delle correnti atlantiche quindi nel pomeriggio anche se al mattino il tempo sarà decisamente migliore nel pomeriggio comunque ci saranno episodi di instabilità tutto ciò almeno fino alla seconda alla terza del mese di agosto avremo questa situazione poi sembra possibile verso fine mese l'arrivo di altre perturbazioni atlantiche piuttosto organizzate ma si tratta ripeto Paolo di una tendenza questa che poi analizzeremo diffusamente nel corso dei prossimi giorni certamente così faremo io ringrazio Giovanni De Palma grazie buon lavoro buona giornata e visto che sei anche tra virgolette un po' in ferie anche tu buone ferie grazie grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori grazie a Giovanni De Palma per questi approfondimenti sempre puntuali sul meteo ma gli strumenti per poter essere informati sono quelli che vi abbiamo mostrato anche qualche istante fa il sito www.abruzzometeo.org è uno strumento fondamentale per conoscere le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni e poi la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma che potete utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo che ritroveremo domani sempre intorno alle 7 e 20 nel corso di mattino 6 sono le 7 e 28 minuti noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo come sempre per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine d'Abruzzo del quotidiano Il Centro andiamo a vedere la prima pagina si parla dell'estate dei tutor dunque di multe ecco l'occhio elettronico da 5.000 multe l'anno calcola la velocità media dei veicoli in autostrada non sbaglia e non fa sconti nascondere la targa non serve unico rimedio alzare il piede dell'acceleratore e poi vedete questo grafico che ci dice dove si trovano i tutor sui tratti autostradali della nostra regione sulla A24 a Tivoli nella zona della Valle del Salto a Carsoli l'Aquila Est e l'Aquila Ovest sulla A25 a Sulmone ad Avezzano sulla A14 a Pescara a Giulianova e al Bivio dell'A14 con l'A25 andiamo avanti altra pagina dedicata alla cronaca ad Abruzzo agenti abruzzesi in pattuglia negli USA progetto condiviso in occasione di un incontro ad Orsonia con il Dipartimento di Polizia di Harwet nel Massachusetts e poi si parla del garante dei detenuti dai radicali ricorso e diffida alla Regione la notizia è uscita fuori ieri nel corso della visita della segretaria nazionale Rita Bernardini nel carcere di Pescara il giorno prima la Bernardini con la delegazione radicale aveva visitato il carcere Castrogno di Teramo in quel caso c'era anche il leader radicale Marco Pannella che ieri ha saltato la visita nel carcere San Donato di Pescara per un leggero affaticamento andiamo ancora avanti siamo alle pagine della pagina dell'Aquila del centro l'Unione Europea richiede le tasse alle aziende senza danni questo è il primo titolo la Commissione Europea impone il recupero degli sgravi fiscali concessi il tributarista Fabiani imprese tutte colpite perché costrette ad un lungo stop e poi l'altra pagina boom di turisti in centro tra i vicoli incerottati alberghi ristoranti pieni migliaia di persone a passeggio tra i cantieri in città pienone a Campotosto 1500 biglietti a stiffe Monte Reale in 10.000 per i nomadi andiamo a vedere un attimo lo faremo tra qualche secondo anche l'edizione di Pescara del centro per andare a leggere insieme i titoli che riguardano il capoluogo adriatico in questo caso è anche la cronaca del litorale per vedere quali sono le notizie proprio che riguardano Pescara e tutta la zona dell'Interland prima pagina del centro edizione di Pescara nuovo asilo e 30 alloggi via ai lavori a Porta Nuova ha sbloccato l'intervento da 4.800.000 euro per realizzare un complesso edilizio in via dei Peligni l'assessore sul pizio dice l'opera sarà pronta entro il 2016 vedete la foto del plastico come sarà il nuovo asilo con i 30 alloggi nidi di infanzia pieni prossimo anno 82 bambini resteranno fuori e poi è stato pubblicato l'avviso perché il comune vuole assumere il comune di Pescara 14 dipendenti delle province ancora avanti in centinaia per l'ultimo saluto a Gabriel Marina di Città Sant'Angelo ai funerali del 18enne investito da un ubriaco il sacerdote attacca la cultura dello sballo e sono stati donati il cuore i reni ed il fegato di Gabriel investito da un automobilista un neopatentato che poi risultato ubriaco andiamo ancora avanti siamo a pagina 13 del centro si parla ancora del cronaca di Pescara acqua marrone nel fiume torna l'incubo inquinamento diverse le segnalazioni ma la capitaneria tranquillizza e poi la cronaca derubata da marito e figli pensionata sull'astrico la drammatica vicenda di una 82enne dei colli che si è rivolta alla polizia dice mi hanno preso 70.000 euro sono disperata come faccio a vivere ora e poi l'esercito bosniaco in campo per cercare padre Luciano il sacerdote scomparso nella zona di Maggiugori sacerdote originario di Civitella Casanova in provincia di Pescara ancora cronaca dal capoluogo adriatico barista aggredito fuori dalla stazione bloccato alle 4 del mattino da alcuni stranieri ubriachi mentre andava a lavorare e poi la rapina rapina a un'anziana ciuffato da un poliziotto fuori servizio è accaduto in via Scarfoglio e poi pagina 14 si parla ancora di cronaca di Pescara i locali di via Battisti pronti ad anticipare le chiusure dopo le proteste dei residenti per la mancanza di controlli nel nuovo quadriatro della Movida una prima quindicina di titolari si è riunita in un comitato con un decalogo di regole e poi Ferragosto al mare torna a risuonare la conchiglia di Eriberto tartarughino festa in spiagge in nome del mitico fondatore e si pensa a ripristinare il nome pagina 15 il medico non si presenta all'esame a pagamento Montesilvano disavventura per una coppia di pensionati al distretto sanitario una donna costretta a rinunciare l'ecodopler urgente in Intramoenia in alto Francavilla si riparte il servizio del doposcuola e poi dal 118 a Ferragosto Mironeri soccorse ubriache in spiaggia è accaduto a Pescara siamo in provincia Torre dei Passeri elementare 240 mila euro per gli infissi Torre dei Passeri lavori indirittura d'arrivo per la messa in sicurezza dell'enorme edificio scolastico che vedete nella foto e poi appenne scuola media al via la ristrutturazione costerà 685 mila euro a Spoltore 100 candeline per nonna Maria grande festa con i figli nipoti e pronipoti gli auguri del sindaco Luciano di Lorito siamo alla pagina di Chieti del quotidiano il centro da vasto in questo caso guida l'auto a 14 anni il suo complice ne ha 12 sorpresi dalla polizia municipale in macchina avevano arnesi da scasso gli agenti li hanno segnalati alla procura del tribunale per i minorenni e poi impatti di ferragosto due incidenti in un'ora feriti giovani di 19 anni sempre nel vastese e sempre nella zona del vastese in questo caso a San Salvo scazzottata tra 5 ambulanti 3 italiani e 2 del Marocco denunciati dai carabinieri per rissa e poi ritroviamo la notizia che abbiamo visto anche nella prima pagina edizione del centro di Chieti i 5 stelle si rivolgono al ministro mandi via dicono il direttore generale interpellanza di 8 senatori grillini ma non c'è nessuna abruzzese dicono un indagato non può ricoprire tali incarichi siamo la pagina dell'aquila abbiamo già visto alcune notizie nell'edizione aquiliana del centro qui siamo ad Avezzano in particolare attentato incendiario in un'abitazione famiglia colpita tre volte negli ultimi due mesi danni ingenti e poi a Pescina il piromane devasta la vecchia pineta due roghi in poche ore il CAI aumenteremo la vigilanza per segnalare persone sospette e poi ad Avezzano benzina a sbafo caccia a 30 automobilisti indagini sull'assalto al distributore rimasto aperto per errore furto di 1500 euro ancora avanti siamo alla pagina di Teramo del centro ritroviamo la notizia con cui abbiamo aperto la nostra rassegna stampa muore a 15 anni con lo scooter il padre si è spenta dice la mia luce Pineto il papà che era la guida del motorino ricostruisce lo scontro con l'Alfa 145 oggi i funerali della ragazza al quartiere dei poeti il sindaco di Pineto Verrocchio rinvia tutte le manifestazioni e a Santomero Teramano muore in bici forse per un malore disposta l'autopsia e poi andiamo a fondo pagina in questo caso a Martinsicuro senza acqua via i turisti a Ferragosto Rubinetti a secco prime fughe operatori turistici si pagano le autobotti allora c'è l'inserto Aquilone che poi ci porta ci porterà le pagine dello sport ma lo faremo fra qualche minuto perché dobbiamo andare a leggere insieme le pagine dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero apriamo con la prima pagina d'Abruzzo per vedere quali sono i titoli principali Pineto in lutto per Federica anche in questo caso l'apertura è per la tragedia avvenuta a Pineto nel giorno di Ferragosto oggi l'addio alla 15enne morta a Ferragosto era in scooter col papà un'auto li ha investiti la mamma ha corsa sul posto ricoverata per un malore sospesi concerto e processione poi a città Sant'Angelo in maxi e spianto su Gabriel donati cuore fegato e reni si parla dell'Aquila nel titolo di centropagina mazzata sulle aziende l'Unione Europea dice restituire tutti gli aiuti faro sugli sgravi fiscali Lolli dice ci opporremo con o senza il governo poi Pescara polemica sul mare inquinato festa in spiaggia ma non in acqua e poi la storia che arriva ad Alba Adriatica perché proprio nella cittadina in provincia di Teramo è stata sequestrata la capretta premio della lotteria irrompono le guardie zoologiche è bloccata anche una corsa di galline e questi dunque i titoli della prima pagina dell'inserto del messaggero andiamo a vedere le pagine interne le pagine provinciali partiamo dall'Aquila centrale a biomasse di Bazzano scatta l'inchiesta della procura acquisite alcuni atti sui permessi da parte dei carabinieri di Paganica e poi nel mirino l'autorizzazione rilasciata dalla regione alla Futuris Aquilana Unione Europea stangata sulle aziende restituire tutti gli aiuti e poi cronaca da Monte Reale due capannoni a fuoco si segue la pista dolosa e poi in basso domani al Palazzetto dei Nobili torna sulle tracce del Drago mentre il sindaco Cialente dice rifinanzieremo la Film Commission dunque nuovi finanziamenti per questa importante manifestazione seconda pagina dell'Aquila in questo caso siamo ad Avezzano e Surmona dunque Marsica e Valle Peligna a Trassacco muore bimba di 20 giorni dopo il ricovero al bambino Gesù la neonata trasportata a Dutudenza in preda a crisi respiratorie chiesta la cartella clinica a Ferragosto tra i turistici anche Lino Banfia Roccaraso la zona dell'Alto Sangro è stata baciata da una giornata piena di sole e temperature miti ad Avezzano ritroviamo la notizia dell'incendio in casa salvo un anziano mentre andando a Sulmona torna alla fiera delle polemiche organizzatori preoccupati regole vecchie mai cambiate poi di nuovo in Marsica la strage sulla 25 oggi funerali di uno degli operai morti nell'incidente e sempre ad Avezzano c'è l'annuncio del parroco Donaldo che dice lascio la parrocchia Donaldo Antonelli che non sarà più il parroco di Antrosano lo ha confermato ieri ad un gruppo di amici con i quali ha pranzato e siamo alle pagine di Pescara del messaggero Ferragosto gioie e dolori oggi dati su Fosso Pretaro il sindaco di Francavilla dice revoco il divieto di tuffi se avrò risultati favorevoli e poi la cronaca Dio a Gabriel Donati cuore fegato e reni fiori bianchi e lacrime al funerale del 18enne investito e poi la cronaca Scipanziane in via Scarfoglio preso da un agente fuori dal servizio c'è stato anche un altro arresto per un furto sempre a Pescara pagina di Chieti del messaggero pescatore salvato in extremis dalla piena paura da tessa un turista sorpreso dall'apertura della diga di bomba rimane bloccato su un isolotto al centro del fiume i vigili del fuoco intervengono poco prima che l'acqua lo raggiunga il soccorso nella notte l'uomo imbracato è sollevato da un ponte e poi andiamo a Lanciano Sevel si riparte entrano in fabbrica i primi 88 assunti gli altri a settembre a San Salvo Rissa sul lungomare della Marina in 5 finiscono all'ospedale e poi ex caserme al palo appello al prefetto siamo a Chieti la città che cambia il comitato presieduto da Giampiero Perrotti via da Corona dice si evitino lungaggini per l'ex ospedale militare e per la caserma Berardi pagina di Teramo del messaggero schianto auto scooter muore una quindicenne nel primo pomeriggio di Ferragosto la ragazza viaggiava in sella al motoveicolo condotto dal padre il conducente dell'Alfa iscritto sull'ergistro degli indagati per omicidio colposo si sospetta una mancata precedenza e poi Santomero sessantenne stroncato da infarto mentre va in bici vedete la foto di Ferragosto Ferragosto in corsia per il manager Fagnano una mattinata in ospedale a Teramo e poi a Giulianova invece scoppia rissa sul corso dopo lo scontro con feriti tra una bicicletta ed un pedone e scuole al via i lavori di messa in sicurezza a Teramo e anche in provincia in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e poi Giulianova patrimonio De Vincentis contro gli operai arriva la replica e siamo alle pagine dello sport del messaggero allora torniamo al centro per andare a vedere insieme proprio le prime pagine dello sport che per quanto riguarda la nostra regione ma non solo quella di ieri è stata una giornata di Coppa Italia una serata di Coppa Italia per quanto riguarda il turno il terzo turno andiamo a vedere grazie anche a questo grafico del centro i risultati che sono maturati proprio nelle gare che sono state giocate ieri e andiamo a vedere anche il prossimo turno di Coppa Italia allora vediamo i risultati Coppa Italia Team terzo turno Crotone Ternana 1 a 0 Bologna Pavia 0 a 1 alcune gare erano state giocate nella giornata dell'altro ieri Empoli Vicenza 0 a 1 Alessandria Juve Stabbia 1 a 0 non sono mancate come vedete le sorprese Sassuolo Modena 2 a 0 Trapani Cagliari 3 a 5 dopo i calci di rigore la formazione Sarda dunque passa dopo i calci di rigore per 5 a 3 Verona batte Foggia 3 a 1 Atalanta Cittadella 3 a 0 Frosinone Spezia 5 a 6 dopo i calci di rigore dunque la formazione Ligure elimina la squadra Ciociara neopromossa in Serie A Palermo Avellino 2 a 1 Udinese Novara 3 a 1 Carpi Livorno 2 a 0 dopo i tempi supplementari Torino Pescara come dicevamo in apertura di questa rassegna stampa 4 a 1 tre gare si giocheranno in serata Chievo Salernitana alle 19 Milan Perugia alle 21 con diretta sulla Rai e poi Catania Cesena si giocherà invece il 20 di agosto alle 20 e 30 tra l'altro Catania Cesena questa partita si giocherà proprio in posticipo rispetto alle altre perché il Catania ha vinto a tavolino la partita ha avuto vittoria a tavolino nella partita con la Spal che invece aveva perso sul campo per 1 a 0 perché la Spal aveva giocato aveva messo in campo un giocatore che invece era squalificato vediamo dunque il prossimo turno della Coppa Italia con queste gare Crotone contro la vincente di Milan Perugia poi Pavia Verona Vicenza Carpi Alessandria Palermo Sassuolo Cagliari Verona Pavia Atalanta Udinese Spezia con la vincente di Chievo Salernitana Palermo Alessandria Udinese Atalanta Carpi Vicenza Torino contro la vincente di Catania Cesena e poi le altre gare a seconda di quelli che saranno i risultati del prossimo turno e siamo al Pescara Delfino K.O. all'Olimpico di Torino dall'illusione al crollo Biancazzurri avanti con Fornasier dopo 16 minuti poi il Torino si sveglia e ne segna 4 possiamo andare a vedere qualche immagine della gara giocata allo Stadio Olimpico di Torino dinanzi a circa 12.000 spettatori Pescara che si illude vedete il gol di Fornasier sugli sviluppi di un calcio d'angolo siamo al 17esimo minuto del primo tempo il Pescara va in vantaggio ma poi c'è il ritorno della formazione piemontese che pareggia con Basselli al 27esimo del primo tempo e poi c'è il 2-1 di Acqua al 32esimo rimpallo che favorisce il giocatore del Torino primo tempo che si chiude sul 2-1 poi nella ripresa c'è il Torino che attacca e trova il terzo gol anche questo in maniera fortunosa con Maxi Lopez poi il poker segnato da Martinez appena entrato azione travolgente del giocatore con la maglia numero 17 che segna la quarta rete gara che si chiude sul risultato di 4-1 in favore del Torino vedete Ventura che va ad applaudire i suoi giocatori anche i tifosi vediamo un attimo la formazione del Pescara come si è schierata la formazione Bianca Azzurra 4-3 1-2 con Fiorillo in porta poi Zampano Zuparic Fornasiere Rossi in difesa Torreira Memusciai Verre a centrocampo Valotti sulla tre quarti con Lapadula e Caprari in attacco c'è da dire che si sono infortunati Valotti ed Esposito Valotti che non era al meglio uscito al 37esimo del primo tempo sostituito da Selasi più grave sicuramente l'infortunio dell'ex giocatore delle Chieti che era entrato al 25esimo del secondo tempo e ha avuto un problema alla spalla è stato costretto ad uscire il Pescara ha giocato gli ultimi minuti in 10 uomini perché erano state già effettuate le tre sostituzioni poi al 91esimo le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo che ha detto la squadra mi è piaciuta bisogna dire che il Pescara ha giocato un ottimo primo tempo ma poi è stato punito da alcuni errori commessi in difesa andiamo a vedere le pagelle del quotidiano il centro per quanto riguarda i giocatori del Pescara Fiorillo 5 e mezzo Zampano 5 Zuparic 5 Fornasier 5 e mezzo Rossi 5 Torreira 5 Memushai 6 e mezzo Mitrizza 6 in campo dal nuovo minuto del secondo tempo Valotti 5 e mezzo Seilassi 6 e mezzo in campo dal 35esimo del primo tempo Lapadula 6 e mezzo Caprari 6 sicuramente difesa da rivedere quella del Pescara perché ci sono stati degli errori piuttosto evidenti commessi dai giocatori del Pescara tra l'altro ieri erano assenti per infortunio altri due difensori Bunoza e Ciosic ma il secondo potrebbe essere ceduto andiamo a vedere ancora la pagina del centro si parla di mercato per quanto riguarda il Pescara perché si tratta con Boacì è contattato la gente il club sta convincendo il procuratore del bomber ganese su Salamon c'è anche il Cesena Oddo punta tutto su Giorgi dunque questi nomi caldi per quanto riguarda gli arrivi in casa Bianca Azzurra per quel che riguarda le cessioni Grillo nel mirino del Catania Scrugli è stato sondato dall'Acragas formazione siciliana di Agrigento andiamo avanti ed ecco la pagina dedicata al Teramo l'incubo serie D aspettando la sentenza l'attesa del Teramo tra speranze e dubbi e calcoli il collegio giudicante potrebbe ritoccare le sanzioni chieste per il Catania e il Diavolo senza stravolgerle verdetti attesi tra oggi e mercoledì poi ci sarà la corsa contro il tempo per i processi d'appello e poi vedete in basso in rete un video girato in spiaggia una goliardata dei tifosi del Giulianova sapete della grande rivalità che esiste fra Giulianova e Teramo c'è stata questa goliardata dei tifosi del Giulianova sulla rete siamo a Lanciano ancora serie B Lanciano che rompe su Zanon contatti avviati con le Frosinone per il terzino cranio atteso in città ancora nessuna traccia di Iemmello e poi l'Aquila Lega Pro fiato sospeso Aureli dice siamo sereni ma rischiamo un salasso perché anche l'Aquila è invischiata in questa è interessata da questa inchiesta però in questo caso si parla di responsabilità oggettiva la società Rosso Blu rischia comunque una penalizzazione siamo alle altre pagine dello sport del centro le abruzzesi al lavoro serie D pomponi scatenato Chieti devi vincere e poi San Nicolò Moretti già in forma al via i raduni delle giovanini ancora serie D Amiternina tour di amichevoli sabato ha scoppito c'è l'Aquila Giulianova Giorgini pensa positivo Giallorossi in rampa di lancio il tecnico alleno ragazzi interessanti che possono dire la loro altra squadra di serie D ne ho promossa Lavezzano precampionato sprint Brillano Bittaglie Persia e Ndaie ancora calcio eccellenza Alba Clementoni Ruscioli va a Castelnuovo e poi il motociclismo in questo caso Lorenzo vince raggiunge Rossi in vetta Iannone il motociclista vastese deluso per il quarto posto comunque un buon risultato per lui e poi Beach Volley Nicolai fuori per infortunio al test event dei giochi a Pescara due coppie transalpine nei primi due posti del torneo preparatorio allo Stadio del Mare vi ricordo che tra pochi giorni il 28 di agosto prenderanno il via i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia proprio a Pescara siamo al basket Roseto tra due fuochi Ols o Thomas ancora da sciogliere il nodo sullo straniero la Proger Chieti punta sua bot mi manda show faremo bene dice il giocatore e poi Marruganti un senese con Teramo nel cuore dopo i sette anni di esperienze in Abruzzo è presidente EDS della nuova Mens Sana formazione nata dalle ceneri del Monte dei Paschi di Siena che gioca in serie 2 tanti ricordi per Marruganti che per sette anni come dice anche questo titolo del centro è stato in Abruzzo nel Teramo ancora basket Salvatorelli vasto punto a mantenere la serie B il direttore sportivo Biancorosso fa le carte al campionato poi Ortona riparte dal nucleo della promozione in serie C Nova Campli con due nuovi innesti si tratta di Pira e Adonide scusate Campli con due nuovi innesti Pira ed Adonide invece vanno a Pineto e siamo al calcio a 5 Acqua e Sapone al raduno con il difensore Mimili Nerazzurri tornano ad allenarsi oggi ci sarà anche il rinforzo spagnolo questo è il titolo che riguarda il calcio a 5 vedete i convocati dell'Acqua e Sapone i tre portieri con Mammarella tra i migliori al mondo poi difensori laterali Pivo con l'allenatore confermato Massimiliano Bellarte allora andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci il Pescara dura poco questo è il titolo di apertura della prima pagina Biancazzurri KO 4-1 a Torino fuori dalla Coppa buona la manovra ma tanti errori in fase difensiva lo dicevamo anche prima qualche ingenuità di troppo nella retroguardia Biancazzurra dopo un grande avvio con il gol di Fornasier Abruzzesi condannati da qualche ingenuità difensiva siamo a Lanciano il giorno di Cragno nel Mirino anche Zanone dentro fuori si decide per il secondo portiere del Cagliari piace il terzino del Frosinone ma in corsa c'è anche l'Aquila scusate l'Ascoli e invece l'Aquila per ora non pensa al patteggiamento l'avvocato Tortorella spiega le strategie della società Rosso Blu e tornando a Lanciano il rischio tangibile dell'esilio a Bari domani infatti in consiglio comunale arriva il bilancio 2015 ed inizierà una corsa contro il tempo una volta varato il bilancio dopo un'ulteriore via libera delle autorità provinciali la Virtus Lanciano dovrà infatti presentare il progetto esecutivo di ampliamento del Biondi e in caso di emigrazione non ci sarebbe almeno come scritto qui sul messaggero l'ipotesi stadio adriatico di Pescara ma quella del San Nicola di Bari parliamo di come si legge in quest'articolo di un salasso di 500 km tra andata e ritorno per il Lanciano siamo al Teramo fiato sospeso caso Savona sentenza mercoledì o giovedì la società resta positiva ma è pronta a ricorrere in secondo grado con tempi ristretti la squadra si ritrova oggi al Bonolis la sentenza può sconvolgere il mercato del Teramo e intanto a Giulianova Serie D si riaffaccia il consulente Serraiocco ancora sport Iannone quarto e rimpianti siamo al motociclismo con il risultato del pilota vastese poi Nicolai sogno la medaglia olimpica a Rio si parla di beach volley con i test event dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia a Pescara ancora sport calcio a 5 l'acqua e sapone si raduna e si regala Mimi e poi invece il Pescara con Grello ultimi ritocchi per l'Europa Pescara che parteciperà alla Coppa dei Campioni alla UEFA Futsal Cup di calcio a 5 ancora sport dalle pagine del messaggero Tawa gol senza età riparte dal Montaurei giocò nel Teramo dell'era Malavolta ingaggiato dalla matricola al Paterno arriva Ciurlia dal Casarano di Lallo al Francavilla queste le operazioni di mercato nelle categorie minori in questo caso in eccellenza poi basket Sharks Roseto mercoledì Raduno con il roster però in completo serie B Amatori Pescara chiude con un doppio acquisto Rugby Zaffini segue gli aquilani Mercier Pesca tra i romeni siamo giunti al termine dunque della nostra consueta rassegna stampa del lunedì con un'ampia pagina come sempre dedicata allo sport a me non resta come sempre che ringraziarvi e ricordarvi il prossimo appuntamento informativo della giornata come sempre alle 14 con il primo appuntamento con il TG6 grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento e buon proseguimento e buon proseguimento e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti